Siamo su Bitcoin Dollaro e possiamo vedere che in questo momento la criptovaluta ha mantenuto il livello dei 45.000 dollari come resistenza andandola a rompere solamente con qualche spike e il livello da dover, anzi il cluster da dover mantenere presente e quindi non rompere è tra i 45.000 e i 42.500 dollari che per fortuna è un livello nel quale c'è molta domanda. Nel caso in cui la criptovaluta dovesse rompere a ribasso questo livello allora potremmo confermare un higher low rispetto al periodo nel lungo tempo e quindi andare a definire definitivamente l'arrivo della cripto winter. Quindi andando a confermare come all time high nuovo del 2020-2021 la bullrun che è interessato l'ultima volta Bitcoin a 65.000 dollari.